Ah, Reflux e Andrei hanno unito le loro forze e hanno rubato lo scettro di Gumzi, il re bambino dei Dignaren. Ah, potranno invocare i Leptis e acquisire poteri inimmaginabili. Questa porta dà su una scorciatoia che vi permetterà di riprenderli. Affrettatevi! Sono carini quei guaritori. Se vogliono che ci si prendi potrebbero almeno darci una mano. Roba da matti! Tutte le volte che c'è da salvare il mondo non c'è mai nessuno. Meno male che ci siamo noi. Sì, come se avessimo tempo di giocare. Com'è? Non siamo ancora arrivati! E i guaritori hanno il coraggio di chiamarla scorciatoia? Per fortuna ho capito come si apre la porta. Ma comunque... Rotto di glut! La scorciatoia fa una nuova deviazione! Ho la sensazione che tocchi di nuovo a me! Spacchio, specchio delle mie brame! Oh no, questa non funziona. A rifatte tardi il reflex e Andrezzi sono già imbarcati! Beh, se riescono a invocare i leptis, riducono il mondo in fumo. No. Prendete la barca e riacciuffateli.